Buongiorno da mattino 6, oggi Mercoledì 23 novembre si ricorda San Colombano a Bate Vediamo i titoli di apertura, dalle pagine del centro iniziamo con l'edizione di Pescara In apertura all'Abruzzo 10 milioni di multa, discariche abusive e conto salato dall'Unione Europea La Regione per le mancate bonifiche A centro pagina arriva il maresciallo Frassica, un comico coi piedi per terra L'attore a Pescara il 2-3 dicembre E poi Di Matteo supera la crisi, Regione dopo la sfuriata La maggioranza riscrive il programma Nelle cronache mancano i fondi per le scuole, l'SOS alla Regione E poi Poliziotto muore, era stato investito dalla moglie Nelle cronache di Spoltore rapina all'alba da 6.000 euro nella sala giochi All'interno crisi economica per l'Istat, famiglie più ottimiste Il crack delle banche e risparmiatori protestano a Roma Di taglio basso la giornata contro la violenza sulle donne Ora chiamatemi direttora, De Angelis guida all'orchestra femminile del Mediterraneo Il calcio, la Serie A, il Pescara senza difesa contro la Roma Vediamo ora l'edizione dedicata a Chieti Per il Chieti Calcio un proiettile per il presidente e l'allenatore E poi sulle cronache di Vasto Un chilo di cocaina nel ruotino arrestato un 33enne L'Università di Ilio non cede e conferma le nomine del CDA Lanciano, Negri Sud, la ricerca riparte Fondazione Bis per finanziare progetti e borse di studio A Guardia Greli i migranti lavorano gratis nell'archivio comunale L'edizione di Teramo Gli assassini filmati in un distributore ucciso e bruciato Si parla dell'omicidio dell'artigiano di Tortoreto Per il terremoto nuove scosse a Cortino torna alla paura A Rosetto degli Abruzzi il blizza all'asilo dopo le proteste dei genitori E poi di taglio basso dopo la condanna definitiva Robimarca cacciato dalla ASL Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro Vediamo anche l'edizione dedicata all'Aquila In apertura Allora facciamo così Iniziamo con quella che è stata una delle polemiche Che ieri ha preso spazio dalla regione Abruzzo Si parla ovviamente di discarica Si torna a parlare di rifiuti In questo caso invece si parla di inceneritore Il Movimento 5 Stelle lancia un allarme La preoccupazione è quella della realizzazione di un inceneritore Proprio sul territorio abruzzese Vediamo Un grande inganno Lo chiama così il Movimento 5 Stelle il caso rifiuti in Abruzzo Ripercorrendo tutta la storia Dal consiglio regionale straordinario Svoltosi il 29 febbraio scorso Concluso con la volontà di gestire la materia rifiuti Abruzzo Con il recupero e il trattamento Dal quale si sarebbero poi ottenute materie seconde FOS Oggi invece i grillini presentano un quadro capovolto È stata presentata una bozza di piano regionale di gestione dei rifiuti Che prevede sia il recupero di materia e sia l'incenerimento Per cui a parole ci dicono che non saranno previsti inceneritori nella nostra regione Nei fatti scelgono di incenerire Inceneritori sul territorio Quelli che il sottosegretario Mazzocca aveva escluso categoricamente Nel corso di diverse interviste sul tema Ipotizzando anche il trasporto nell'impianto del vicino Molise Con un accordo tra regioni L'idea nostra è quella di elaborare un protocollo di intesa E quantomeno permetta di ospitare lì una quantità non infinita Né in termini quantitativi e né per troppo tempo Di frazione organica nell'inceneritore, ripeto, già attivo ed esistente I rischi sono di avere appunto degli impianti che i cittadini non vogliono E degli impianti che non soltanto non vogliono Ma ci riportano indietro di 30 anni Abbiamo tutte le conoscenze tecnologiche per evitare di incenerire Per spingere per la raccolta differenziata Che farebbe abbassare anche le tariffe ai cittadini Dunque sia un vantaggio per la salute dei cittadini che per le tasche Torniamo sull'apertura delle pagine dedicate alle cronache di Teramo Il terremoto nuove scosse a Cortino torna alla paura E poi a Roseto il blitz all'asilo dopo le proteste dei genitori Di taglio basso dopo la condanna definitiva Robi Marca cacciato dall'ASL Licenziamento per l'urologo ed ex assessore Comunale La fusione e la camera di commercio salva la sede in città L'edizione di L'Aquila, l'aeroporto, al Palo, sprechi e inchieste Sulle cronache di Sulmona, permessi scaduti, il giudice annulla le multe nella ZTL Ad Avezzano sigarette illegali, chi le fuma rischia la denuncia Comune di Avezzano, i redditi degli eletti Iuce di Pangrazio sono i più ricchi Suv, terreni e case al mare I conti in tasca, i consiglieri E poi Monte Reale, frontale tra auto, muore a 28 anni L'apertura del messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo Camere di commercio a nozze L'Aquila e Teramo vutano la fusione Nasce l'ente unico Gran Sasso con 80 dipendenti Sede nel capoluogo regionale Riunioni alternate nelle due città Ora la ratifica del Mise Il masterplan Febbo dice bonus ai dirigenti della Regione Di spalla la visita di Gasparri Divide Forza Italia Pagano, Masci e Di Stefano vanno ad ascoltare Nunzia di Girolamo E poi Pescara individuate carenze strutturali Nei pilastri, il terremoto è stata chiusa alla palestra a Mazzini Di spalla investito con l'auto dalla moglie Morto l'ex poliziotto, Domenico Scudieri Travolto dalla donna mentre faceva retromarcia Pescara, aree di risulta, il Natale sicuro Di taglio alto, Tortoreto, il piastrellista Tirato in trappola con una falsa offerta di lavoro Teramo impiegato infedele La procura chiede il rinvio a giudizio per gli ammanchi E poi il calcio, la Serie A, Zuparic dice Darei la vita sul campo per conquistare la salvezza Vediamo ora invece i titoli di apertura dei quotidiani nazionali Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera Trump sul clima potrei ripensarci Il neopresidente dice anche niente inchiesta su Hillary E poi il voto all'estero Il fronte del no pronto al ricorso Berlusconi ha dichiarato Mediaset con il sì Teme ritorzioni Andiamo avanti le pagine della Repubblica Ancora voto all'estero Il no minaccia ricorsi Berlusconi dice Mediaset teme ritorzioni L'ex cavaliere spiega il sì di confalonieri Grillo insulta Renzi Dice si comporta da scrofa ferita E poi ancora sulle pagine del Fatto Quotidiano Giocano sporco per promettere dappertutto più soldi al nostro comune Molesti e postali Il PD impone ai suoi sindaci Di spedire milioni di lettere Però sì calpestando la legge E poi La stampa apre dicendo referendum L'ite sui voti all'estero Il Movimento 5 Stelle alza i toni Per mobilitare giovani disoccupati Scontro tra Palazzo Chigi e Sceblu Sui bilanci dell'Unione Europea Il messaggero dice insulti e veleni sul referendum Il comitato del no Pronti al ricorso se gli italiani all'estero Decisivi per la vittoria di Renzi Duro attacco di grillo al Premier Scrofa ferita E Berlusconi dice Mediaset con il sì Teme ritorsioni I bilanci dei paesi membri Berlino contro l'Unione Europea Dice più controlli E Palazzo Chigi risponde Pensino al surplus Trump dice non voglio fare male a Hillary Il giornale titola C'è la prova Più immigrati uguale più crimini Ma che razzismo Lo studio di Confcommercio dimostra la relazione Pronto il piano per una mecca alle porte di Milano E poi ancora Donald Trump Altro che disastro Wall Street vola i massimi grazie alla cura Trump Il mattino dice il referendum L'ora dei veleni Berlusconi Mediaset per il sì Perché teme ritorsioni Il fronte del no Annuncia il ricorso E poi la polemica Sanità Lorenzini e PD Bloccano De Luca Accantonano l'emendamento sul governatore commissario Il tempo Dice il tempo dell'Ambrit Nella storica redazione del quotidiano di Piazza Colonna La visita dei 16 studenti del celebre istituto internazionale E di spalla da 70 anni tra Camera e Governo Palazzo Vede King L'unità dice La cozzaia è completa Anche Berlusconi in campo per il no Grida la deriva autoritaria e vuole il proporzionale Intanto gli antiriforma vedono il complotto E minacciano ricorsi Se vincesse il sì E poi l'Istat dice che aumenta Con un più 10% La soddisfazione economica delle famiglie Libero titola I veneti e altri Non ne possono più La rivolta contro i profughi Barricate, roghi Perfino bombe contro gli edifici Destinati a ospitare gli extracomunitari Il governo nasconde l'emergenza Con spot sull'accoglienza Ma l'Italia reale si sente presa in giro Anche perché i richiedenti asilo Arrivano da oltre 30 paesi E poi così Berlusconi progetta la riscossa Il Cavaliere in TV Denuncia Mediaset è per il sì Perché teme ritorsioni da parte di chi ha potere L'avvenire dice Sprazzi di Sereno Dopo 5 anni Migliora la condizione di vita L'impegno dei cattolici Per il lavoro libero e degno Il gazzettino Politica referendum È scontro totale Grillo insulta Renzi Il premier dice Cercano la rissa Berlusconi dice Mediaset vota sì Perché teme ritorsioni Il fronte del no Attacca Faremo ricorso Se il voto degli italiani All'estero Sarà determinante Il gazzettino del mezzogiorno Dice referendum La rissa continua Il comitato del no Prepara ricorsi Guerini evoca Il voto anticipato La sinistra PD Dice subito Il congresso La segreteria Già fissato Nel 2017 La verità Dice Le ombre del caso Carrai Renzi scivola ancora Sulla casa Il premier Attacca grillini Per l'appartamento Di Casalino Ma non ha ancora Spiegato agli italiani Perché da sindaco Si faceva pagare l'affitto Da un imprenditore Che prendeva appalti Dal comune E poi gli islamisti Vincono la coppa Del terrore Torniamo Sulle pagine Del centro Iniziamo a leggere Le pagine Dedicate Alla nostra regione Come abbiamo detto Si parla di Discariche Si parla di rifiuti Guardate qua Discariche abusive La stangata europea Paduan Ad Alfonso Dice Cidevi 10 milioni Il conto dello Stato All'Abruzzo Per le infrazioni Comunitarie E si riaccende Lo scontro Sull'inceneritore Il Movimento 5 Stelle Dice È una giunta bipolare Dice una cosa E ne fa un'altra E la replica Del sottosegretario Alla presidenza Mazzocca È l'impulso All'economia circolare Domenico Pettinari Dichiera Parlano di rifiuti zero Ma poi nei fatti Fanno il contrario La replica Arriva da Mario Mazzocca Che dice I nostri atti Vanno nella direzione Dello sviluppo Sostenibile Una mappa dei rifiuti Regione Comune Alle prese con il nodo Delle bonifiche Da Balzorana Cepagatti Da San Valentino Alla Lota Ecco i siti sanzionati Dall'Unione Europea Tra lavori già avviati Ritardi E corse contro il tempo Per evitare nuove sanzioni A Pizzoli Il caso della collinetta Caprareccia Nata 40 anni fa È stata ricoperta E piantumata Ma resta da capire Se serva o meno Un intervento Di messa a norma E poi in provincia di Chieti Restano sotto la lente Vallone Maltempo E via della Lota Nel Pescarese A Colle Freddo Il Tar ha bloccato I lavori Per problemi Burocratici La pagina della politica Confronto aperto Sulla grande riforma Voto all'estero Incubo del fronte Del no Una minaccia di ricorso Grillo dice a Renzi Ti comporti come Una scrofa ferita La replica è Cercano la rissa E dobbiamo restare calmi Il premier Dice Tentano di portarci Allo scontro Noi non faremo ricorsi O contro ricorsi La nostra reazione Sarà calma e gesso Vogliamo solo entrare Nel merito Parla anche Silvio Berlusconi Dice Non credo a elezioni anticipate Perché tanti eletti Non hanno la certezza Di tornare in Parlamento Saranno attaccatissimi Alla loro poltrona Di taglio basso I trampisti Del giorno dopo Sono nel sì Il senatore Quagliariello Di idea Condanna L'ipocrisia Gli attacchi Terroristici Contro il no Il centrodestra in Abruzzo Deve partire da una seria valutazione Dell'ex giunta Chiodi Per poter guardare avanti Con uomini nuovi Un esempio Di Dalmazio E poi si parla di referendum Con un faccia a faccia Tra il governatore Alla regione D'Alfonso Luciano D'Alfonso E poi La rappresentante Del movimento 5 stella Alla regione Sara Marcozzi Secondo il governatore Il referendum Ovviamente per il sì È un'occasione unica Per dare al paese Istituzioni moderne Il rischio Da evitare È l'alternativa È non avere una riforma migliore Ma l'immobilismo E la paralisi Ancora per lungo tempo Sara Marcozzi Dice Questa riforma Non garantisce Legge più veloci Sovranità violata Il senato Non viene abolito Sarà invece cancellato Il nostro diritto Di scegliere E votare I suoi componenti E questo sarà il quesito Approvare il testo Della legge costituzionale Concernenti disposizioni Per il superamento Del bicameralismo Paritario La riduzione Del numero Dei parlamentari Il contenimento Dei costi Di funzionamento Delle istituzioni La soppressione Del CNEL E la revisione Del titolo quinto Della parte seconda Della costituzione Nel dettaglio Il centro Spiega i punti Della riforma Alcuni Il primo è Il superamento Del bicameralismo Ovvero La Camera diventa L'unico organo Eletto dai cittadini E l'unica Ad accordare La fiducia Al governo E approvare Gran parte Delle leggi Per il senato Invece Ci sarà una trasformazione Diventerà La Camera Delle regioni E dei comuni Il secondo punto È quello Della riduzione Del numero Dei parlamentari Perché il senato Sarà formato Da 100 senatori Oggi sono invece 315 95 eletti Dai consigli regionali E 5 dal presidente Della repubblica Per il contenimento Dei costi Invece Secondo il governo La riforma farà risparmiare 490 milioni di euro All'anno 80 sulle indennità Dei senatori 70 dal funzionamento Di gruppi e commissioni E 320 dal superamento Delle province 20 invece Dalla soppressione Del CNEL E secondo la ragioneria Generale dello Stato Con il nuovo senato Il risparmio sarebbe Di circa 50 milioni Di euro La soppressione Del CNEL Ovvero L'organo Di rilievo Costituzionale Che fornisce Pareri a governo Nel Parlamento Sui temi del lavoro E dell'economia E poi Il punto Cioè quello Della revisione Del titolo quinto È quello che riguarda Gli enti territoriali Cioè La riforma Rivede le competenze Legislative Di Stato e Regioni Eliminando Le cosiddette Sovrapposizioni Introduce Il principio Per cui Nei casi Di interesse nazionale Le decisioni Dello Stato Prevalgono Su quelle delle regioni E la riforma Prevede anche L'abolizione Delle province Quindi Guardando i cinque punti Per Luciano D'Alfonso Del si dice Nessun potere In più Viene conferito All'esecutivo Mentre il ruolo Degli organi Di garanzia Non sarà Menomato Ma anzi Rafforzato Per quanto riguarda Sara Marcozzi Dice Lo Stato centrale Potrà provare Trevellazioni in mare Costruire inceneritori Lettrodotti E grandi opere Inutilmente Fortemente Impattanti Sui cittadini Questo è il riferimento Alla revisione Del titolo quinto Cioè Lo Stato Avrà l'ultima parola Anche sulla volontà Delle regioni Andiamo avanti Dentro la crisi L'Istat dice Che le famiglie Sono più ottimiste Dopo cinque anni Torna la percezione Positiva Timori per criminalità Inquinamento E traffico La soddisfazione Degli italiani Per le condizioni Di vita Nello specchietto Del centro E dice Che i principali Motivi di lamentela Sono la criminalità L'inquinamento Dell'aria Il traffico La difficoltà Di parcheggio E le strade sporche Per quanto riguarda La fiducia negli altri La maggioranza Il 78% Dice Bisogna stare molto attenti E poi Gran parte della gente Degna di fiducia E infine Probabile Vedersi restituire Il portafoglio Da uno sconosciuto Confcommercio Dice che L'illegalità Si mangia 26,5 miliardi L'anno Costa Quanto una legge Di bilancio La diffusione Della criminalità In Italia Un fenomeno Niente affatto Sconfitto Contro il quale Lo Stato Deve farsi Da garante Con controlli E pene certe Ma che si combatte Anche sul piano civile Perché gli imprenditori Sotto ricatto Sono chiamati A denunciare Il crack Delle banche La protesta A Roma I risparmiatori Truffati Devono risarcire Tutto quello Che abbiamo perso Continua la richiesta Da parte Delle persone Danneggiate E poi in Toscana Meningito Un altro morto Torna la paura Una donna deceduta A Viareggio E contagiato Anche un bimbo Di 8 anni E grave L'asla dice Non ci sono collegamenti Ma le vaccinazioni Sono ancora Troppo poche La scheda dice Così si combattono I batteri nemici Si parla di maltempo In Liguria Trascinati dalla piena Un disperso I migranti Erano sotto i pilastri Della A10 L'allarme meteo È stato prorogato Sviluppo sostenibile Economia Il futuro È sullo verde Galletti Dell'ambiente Dice Cardine Della quarta Rivoluzione Industriale La svolta di Trump Sul clima Ecco i miei 100 giorni Il dietro fronte Del presidente eletto Sul global warming Sul muro Antimigranti Cambio di tattica Anche nei confronti Di Hillary Clinton Infierire Non serve Dice il nuovo presidente Degli Stati Uniti E poi l'aborto Per donare Non è svendere Monsignor Galatino Galatino Difende la lettera Del Papa Dalle attese Contestazioni Apriamo la pagina Dell'Abruzzo Si parla di politica Il confronto Dopo la sfuriata Di Matteo rimane E la maggioranza Riscrive il programma Urla dell'assessore Ribele Durante la riunione Fiume all'Aquila D'Alfonso ha dichiarato Siamo vivaci E vitali Per D'Ignazio Si aspetta il 5 L'assessore A Paolini Dell'IDV Dice Io mi adeguo Anche alle ultime Visite istituzionali Di taglio basso Sull'Aquila Denunce Appello del Lancia Ricostruzioni Sei mesi Per una pratica Promosse 38 istanze Su 276 Vita indipendente Ecco la graduatoria Pubblicata Andiamo a Pescara La provincia E senza soldi Mancano 30 milioni Per sistemare Le scuole Ecco Tutti gli interventi Necessari Negli istituti superiori Dopo il terremoto Presidente della provincia Antonio Di Marco Dice Non abbiamo le risorse Chiediamo l'intervento Della regione Nel dettaglio Tutte le scuole Con la stima Dei danni Effettuati Dai rilevamenti Degli ultimi giorni Dopo il terremoto L'emergenza Appena i genitori Non si fidano più Una perizia Sui nostri istituti Continua La preoccupazione Dei genitori Dopo il terremoto Dello scorso mese Di ottobre Ed ecco le richieste Dei genitori Per la cronaca È morto il poliziotto Investito dalla moglie Domenico Scuderi 89 anni Aveva lavorato Alla stradale Poi l'esperienza In campo commerciale E anche in uno studio Legale La truffa Corre su Whatsapp Attenti ai ladri Di password Sempre più offerte Promozioni E raccolte Di beneficenza Diffuse Tramite le catene Innescate Su vari gruppi Di utenti La poll post Dice Mai aprire il messaggio Andiamo nel dettaglio E ci sono tre esempi Di bufale Dove ci sono Dei messaggi Che indicano Di aver vinto Dei premi In denaro O anche Dei buoni E cliccando Entrando Ovviamente C'è il rischio Che si possa arrivare Proprio ai dati personali Del vostro telefono Ed ecco qua La denuncia La denuncia E soprattutto L'allarme Lanciato Dalla polizia Postale Di taglio basso Le case requisite Per i profughi Ma è un blef Leggende metropolitane Pescara Banco di prova Per il resto D'Italia E poi La pioggia Di smantite Una gigantesca Bolla di sapone Di quelle Alimentate Dal ricorso Populista Un vocabolario Xenofobo E dal sentimento Molto contemporaneo Del panico Generalizzato Nei confronti Degli extracomunitari La notizia pubblicata Ieri su Il giornale L'opinione Di una presunta Volontà Da parte del Ministro Angelino Alfano Di confiscare Le seconde case Degli italiani A partire Proprio da Pescara Per metterci Immigrati Ha fatto in poche ore Il giro del web E dei social network Tirando picchi Di commenti Avvelenati Ed ecco che è arrivata Anche la smentita E poi La sicurezza Pescara Il blitz In via Arrapietra È stata ripulita Dal degrado L'ex casa di riposo Assalita Dagli esbandati Scoperto E bonificato L'ennesimo rifugio Dei disperati Letti Materassi E coperte In mezzo a rifiuti Ed erbacci Ed ecco le foto Di quello che è stato L'intervento Il sopralluogo E poi la messa in sicurezza Di taglio basso Fateci votare In consiglio Presentata L'Ucraina Alle ruche Neo eletta Della comunità straniere E ieri a Pescara È stata presentata La consigliera Aggiunta Dedicata Proprio alle comunità straniere A Pescara Dove si è parlato Dopo le elezioni Di quelli che saranno I programmi E le intenzioni Per tutelare E soprattutto Integrare La comunità Degli stranieri A Pescara Vediamo È Caterina Lerouche La nuova consigliera Aggiunta del comune Di Pescara Ucraina di origine Da 16 anni in Italia E già mediatrice Culturale Presso l'ospedale Spirito Santo È stata lei Ad ottenere Il maggior numero Di voti Nelle elezioni Svolte il 29 ottobre Scorso 125 preferenze Sui 470 votanti Tutti stranieri Con regolare permesso Di soggiorno In una comunità Che conta in città 3531 persone Da oggi Il suo compito Sarà quello Di diventare Intermediario Istituzionale Dobbiamo Fare sì Che tutti Gli stranieri Sappiano Quelli che Quali che sono I doveri I diritti Ognuno di loro Perché Informazione È molto importante Io penso Anche Lavorando Con Tutti i consiglieri Collaborando Con tutti Il consiglio comunale Di fare sì Che i straniere Possano Avere Più informazione E più Possibilità Agevolazione A tutto ciò Che hanno bisogno Una rappresentanza Voluta dal comune di Pescara Che riconosce Come esigenza Quella di operare Sull'integrazione E la condivisione Di diritti Doveri Su tutto il territorio Ora abbiamo Sia un consigliere Aggiunto Che siederà Nel Nel seggio Comunale E anche Di una consulta Di cittadini Sempre stranieri Che potranno Relazionarsi Col consigliere Aggiunto Che sarà Il trade union Tra loro E l'amministrazione Di esigenze Non rappresentate Ovviamente Ce ne sono tante Rappresentano Tutte le problematiche Che si pongono Per l'immigrazione Per l'integrazione Quindi ci sono Tanti aspetti Da valutare Anche dei problemi Da risolvere E speriamo Che in questo modo Riusciremo ad essere Più efficienti Restiamo a Pescara Ieri la giornata Contro la violenza Sulle donne Sul podio Sono virile Ma chiamatemi Direttora De Angelis Dirige L'orchestra Femminile Del Mediterraneo Domani Al Teatro Massimo Dal flauto Alla bacchetta Guardando alla parità Di genere E ai diritti Negati Ieri è stata Una giornata Nella quale è stato Presentato Quello che sarà Lo spettacolo Annunciato al Teatro Massimo Che vuole sostenere La lotta contro La violenza Sulle donne Un progetto importante Che destinerà I fondi Proprio a una casa Di accoglienza Per madri E bambini In fuga E allora Vediamo quello che sarà Il programma E soprattutto Anche la partecipazione Di enti Anche scuole Femminicidio Femminicidio Violenza Omertà Tantissime le risorse Spese anche a livello nazionale Per combattere un fenomeno Tenuto sommerso Per troppi anni Non solo istituzioni In prima linea Ma grandissimo lavoro È quello svolto Dalle associazioni E anche dalla scuola Pescara mette in campo Tre istituti scolastici Un'orchestra Di fama internazionale Artisti del cinema È uno spettacolo Pensato e studiato Per far comprendere L'importante messaggio Da diffondere fuori Dalle case E dalle stanze Che racchiudono Quella violenza Il messaggio più importante È che la scuola È in prima linea In questa grande battaglia Di civiltà Contro ogni forma Di violenza Ma anche di prevaricazione Di qualsiasi genere Anche di tipo psicologico Nei confronti delle donne I ragazzi Delle nostre scuole Stanno svolgendo Da molto tempo Dei percorsi di formazione E che sono volti Ad affermare Valori forti Come il valore Del rispetto reciproco Della comprensione E della valorizzazione Delle differenze Anche di genere Ritengo che l'arte Proprio sia Il mezzo per eccellenza Per trasmettere Questa sensibilità E per questo Il Rosamara Che noi replichiamo Per la giornata Controllo a violenza Sulle donne Il giorno prima Il 24 novembre Alle ore 21 Al Teatro Massimo Parla di donne Emigranti Donne di ieri Italiane Della Sicilia I primi del novecento E quelle di oggi Dall'Eritrea Che comunque Nel loro lungo percorso Di vicissitudini Subiscono anche violenza In questo caso Questo evento Di Rosamara Va a sostenere La costruzione Della casa rifugio Per la protezione Delle donne Che hanno il coraggio Di denunciare Questa violenza Familiare Da parte Del centro Antiviolenza Ananche Ora andiamo A Montesilvano Protezione civile L'associazione Sfrattata Il titolo Porto alle grofri La sede Ai volontari Anticalamità Il comune Vuole far traslocare Il sudalizio Dell'emergenza Da via Calabria Il titolare Del centro ricreativo Alessandro Monaldi Assicura spazi E ampi Locali Di spalla È stata firmata Un'ordinanza La filiale Unicredit Chiusa Il sindaco Vuole chiarezza Maragno Invita il condominio A produrre Attestati tecnici Sulla sicurezza Dell'edificio Che ospita La banca Ma l'amministratrice Ribatte Che è tutto a posto E minaccia Un esposto Di taglio basso Il flash mob Per dire no Alle donne schiave Venerdì Iniziativa Con gli studenti Delle scuole superiori Nella giornata Contro la violenza Di genere E poi Cronaca Armati di pistola Rapinano 6.000 euro Al Lucky House Villa Raspa Di Spoltore Due uomini Col passamontagna Entrano all'alba Quando la sala Delle slot machine È vuota Sempre su Montesilvano Inclusione sociale Corsi E tirocini Da 600 euro Al mese A città Sant'Angelo Al via Sette spettacoli Da ridere Da domenica Al 9 aprile Il premio Teatro dialettale Angulum Porto abusivo Di armi Nei guai Un giovane Romeno Franca Villa Braccato Inseguito A 150 Allora Dai carabinieri Un uomo A bordo Di una Mercedes Con targa Bulgara Nell'auto Arnesi Utili Per lo Scasso E poi Di San Giovanni Teatino Il commissario Regionale Del partito Real Democratico Buciarelli Guida I fedeli Dei Savoia A Franca Villa Valle Anzucca La festa del judo Una grande giornata Di gare Con atleti Normodotati E ipo Vedenti Sempre Franca Villa Fiori Piantati E subito Rubati Il video Appello Del sindaco Il cantiere A scuola Lezioni per gli alunni In parchi e musei Gli appopoli La settimana Di insegnamento All'aperto Su risorse del territorio Terremoti Geologia E architettura E poi Appenne Comune nel mirino Il secondo furto In sette giorni Il ladro Ha rotto La macchinetta Degli snack Poi si è spostato Al caffa Della CGL Un bottino Da 700 euro Noi ci fermiamo Per una piccola pausa E vi lasciamo Con le previsioni Meteo Di Luca Mennella Seconda parte Della nostra Rassegna stampa Ora sulla pagina Di Teramo Sempre sul centro Cacciato dall'ASL L'urologo Robi Marga Definitiva la sentenza Per truffa I danni Dell'azienda Disposto L'allontanamento Del medico Dal primo dicembre E poi I precedenti In poco più di un anno Altri tre dipendenti Licenziati Via il pediatra Sciarra Il sociologo Di Stanislao E l'autista Lanci Sotto Tra le dichiarazioni Lo specialista Ha usato Una stanza In ospedale Per fini personali Senza timbrare L'uscita Dal lavoro Secondo l'ufficio Procedimenti disciplinari Fatti sono gravi E dimostrano Negligenza La pagina di Chieti È dedicata al Chieti Calcio Nella bufera Lettera Con proiettile A Giacomini e Mariani Minacciati Il presidente E l'allenatore Indaga la Digos Una busta gialla Contenente Una lettera anonima Di minacce Un proiettile Che è stata indirizzata Al presidente Del Chieti Calcio Mauro Giacomini Al suo allenatore Alberto Mariani Nella lettera Compaiono anche I volti Dei due destinatari Segnati da una croce Disegnata Con un pennarello rosso E poi a Lanciano Dalle ceneri Del Mario Negri Sud Nasce il nuovo ente Per la ricerca Di taglio basso Il barbiere di 87 anni L'Inps risponde Subito a cucito Lui si sente Un tartassato E l'istituto Si mette A sua disposizione L'università Di Chieti Dilio Dice Non cambio nulla Nel CDA Della d'annunzio Ateneo Troppo pescarese Il rettore Gela tutte le speranze Dei 90 VIP Teatini E con un'intervista Al centro Risponde Alle critiche Sollevate In una lettera Io vado avanti La cronaca Di taglio basso Abasto Un chilo di cocaina Nella ruota di scorta Giovane arrestato Dai carabinieri All'uscita del casello Della 14 Su un'auto Presa a noleggio La pagina dedicata All'Aquila Frontale in auto Una Miss muore A 28 anni La giovane Era di Verrico Di Monreale L'incidente a poca distanza Dall'auto Del suo fidanzato Yolanda Aleggiani Questa è la foto Scattata Alle selezioni 2012 Per Miss Italia Che quell'anno Si svolsero Proprio a Teramo Una grande incompiuta All'aeroporto Una struttura in agonia All'Aquila ora rispunta All'ipotesi Di una base Della protezione civile Dopo un summit Tra D'Alfonso E Cialente Di taglio basso Le sigarette illegali Coinvolti 20 marsicani Avezzano La guardia di finanza Questa ora è a caccia Di coloro Che hanno piazzato La merce Ai clienti Ci spostiamo Sulle pagine Del messaggero Quelle dedicate All'Abruzzo Prima di questo Noi parliamo Di cronaca Perché Abbiamo parlato La scorsa settimana Di quello che è stato Il rogo All'AM A Pineto C'è stato un intervento Molto importante Perché nel pomeriggio Di martedì C'era stato Anzi nella notte E poi fino a martedì È proseguito L'incendio C'è stato un intervento Da parte ovviamente Di tutti gli organi preposti Ma ieri c'è stato Il sopralluogo Un sopralluogo Molto importante Perché era quello Per vedere veramente La situazione E soprattutto Quelle che erano Le conseguenze Guardate qua Il rogo all'AM La pista È tra i concorrenti Ieri a Scerne di Pineto Il sopralluogo Del magistrato E dei tecnici Di forestale E vigili del fuoco Al momento del rogo Le telecamere Di sorveglianza Degli impianti Erano spenti Ovviamente si cerca Di risalire A quelli che sono stati I fatti Allora Dopo il sopralluogo Queste le dichiarazioni Vediamo Dal sopralluogo All'interno Dell'impianto Di stoccaggio Di rifiuti Del consorzio AM di Pineto Distrutto dalle fiamme Nella tarda serata Di martedì scorso Si conferma L'ipotesi Di incendio doloso Sul posto I tecnici Dei vigili del fuoco I carabinieri E il sostituto procuratore Stefano Giovagnoni Il magistrato Che ha aperto Un fascicolo Contro ignoti Abbiamo visto Il capannone Abbiamo visto Abbiamo fatto Delle ipotesi Come si sia propagato Certo Adesso è da vedere Stiamo facendo Indagini Vediamo Se riusciamo A individuare Anche i motivi Insomma Di questo Di questo episodio Che è molto grave Pensiamo che sia doloso Oggi siamo riusciti A capire Qualcosa di più Le circostanze Le modalità E i tempi Che hanno caratterizzato L'incendio Infatti Lasciano pensare Che non si sia trattato Di un incidente Quando alle 22 circa Di martedì scorso È divampato L'incendio L'impianto di stoccaggio Dei rifiuti Era chiuso E non vi erano Dipendenti al lavoro Circa mezz'ora prima È scattato l'allarme A segnalare La presenza Di un intruso Nell'area del consorzio Intruso Che avrebbe appiccato Il rogo All'interno del capannone Che raccoglie rifiuti secchi Carta e plastica Per poi fuggire Un'area Di circa 2000 metri quadrati È stata distrutta Dalle fiamme Che hanno raggiunto In altezza Anche la copertura Del tetto Facendone crollare Buonaparte Il magistrato Durante il sopralluogo Ha ascoltato anche Il presidente del consorzio Che nella tarda serata Di martedì Riceveva tramite SMS sul cellulare L'allarme Che segnalava Un intruso Nell'area Della AM Ora sulle pagine Del messaggero Anche qui si parla Di politica regionale E soprattutto Di quella che è La nuova intesa Per i dissidenti È il governatore D'Alfonso Niente rottura Ma un nuovo programma Gerosolimo Non c'è Di Matteo Minaccia ancora Le dimissioni Il governatore Apre il dialogo Di Ignazio Quasi in maggioranza Rientrate le ipotesi Del rimpasto E della sfiducia Al presidente Dell'Assemblea Giuseppe Di Pangrazio Quasi tre ore Di confronti A tratti molto serrato Per ricucire Alcuni strappi Affrontare la seconda parte Del mandato Senza le fibrillazioni Degli ultimi tempi Magari Ma questo Non è stato oggetto Di discussione Sfruttando anche Il possibile allargamento Ad area popolare Che oggi fa riferimento Al consigliere Giorgio D'Ignazio Si parla di Masterplan Ancora tre milioni Alla task force Febbo Dichiara Intervenga La corte dei conti Il gruppo di lavoro Composto da dirigenti Della regione Il bonus aggiuntivo Per accelerare L'iter delle pratiche Si parla di Forza Italia Pescara L'arrivo di Gasparri Spacca al vertice Forza Italia Domenica Nell'aula Del consiglio comunale Dove si è tenuta La convention con Parisi Antonio Tagliani C'era però Il pubblico De grandi occasioni Anche su questo Gasparri Non risparmia la battuta Forza Italia Ha l'obiettivo Di unire Non dividere Conosco Parisi È una persona di qualità E mi dispiace Che non sia con noi Ma quando il partito Organizza gli incontri Lui crede Che la gente Venga per lui E questa è la risposta Andiamo a pescare Il sisma Chiusa alla palestra Della Mazzini I controlli successivi Al forte terremoto Nel centro Italia Hanno messo in luce Gravi carenze strutturali Nei pilastri Colpa di recenti Lavori inadeguati Rivela il vice sindaco È già stato predisposto Con urgenza Un intervento Di risanamento E Enzo Del Vecchio Vice sindaco di Pescara Dice servono Due milioni Per l'indagine Sugli edifici comunali E cento volte di più Per gli interventi Queste le dichiarazioni È stato il dirigente comunale A chiedere alla direttrice Del comprensivo Tre Di sospendere Le attività sportive Sempre a Pescara L'area di risulta Più sicura Per il Natale La guardia è alta Il piano della questura Prevede l'impiego Di pattuglie di polizia Carabinieri Finanza Oltre che vigili urbani Fino alla mezzanotte È morto L'anziano investito Dalla moglie Ieri a due mesi Dall'incidente Il decesso Dell'ex poliziotto Domenico Scuderi Sull'accaduto Indagano Procure Polstrada Lui era sceso Per prendere la spesa Dal portabagagli Lei lo ha travolto Facendo marcia indietro Per parcheggiare Oggi la decisione Sull'autopsia Fatali Per il pensionato Alcune complicazioni Di natura infettiva Sì Mi mostrarono Le fotografie Del raccomandato Le spintarelle Al via il processo Per ricorsi e nomine Truccate all'arta Un test Conferma le pressioni Per l'assunzione Di un perito L'ex direttore Dell'agenzia ambientale Sotto accusa Anche per la scelta Del legale Di fiducia E poi Una rapina L'assalto Con la pistola La sala giochi Si parla Della Lucky House Che si trova A Villa Raspa Di Spoltore Alle 6.30 Di ieri Due persone Con il volto coperto Da passamontagna Sono entrate All'interno Dell'attività E sotto la minaccia Di una pistola Si sono fatte consegnare Dai dipendenti 6.000 euro All'Aquila Camere di commercio C'è l'Occhè Il capoluogo Si fonde con Teramo Nasce La struttura unica Del Gran Sasso Sede legale in città Riunioni alternate La dotazione organica Sarà di 80 unità Il patrimonio È di oltre 17 milioni di euro Soddisfatti Il presidente Lorenzo Santilli E il suo collega Scelta nel solo interesse Delle imprese E poi Le telecamere La spaccata L'Eurospine Sono state ritrovate L'auto E la cassaforte A Bazzano Di taglio basso L'amianto In via Lanciano Pompieri Contro il comune Questo è l'allarme Lanciato Sempre l'Aquila La montagna Albivio Il Gran Sasso Nuovo asse Tra istituzioni E parco I fondi Non si perdono L'Olli respinge Le critiche avanzate Da Forza Italia Rassicura Gli impianti Per lo sci Si faranno Ma lo sviluppo È anche altro Navarra rassicura Sull'approvazione Del piano del parco Sarà fatta Entro novembre E cioè In anticipo Questa per la stagione Scistica ovviamente Che è alle porte E poi La solidarietà Firenze I fondi per il restauro Del crocifisso Della chiesa Della Madonna Del soccorso Il sindaco Cialente Sarà oggi presente Al premio Galileo 2000 Ad Avezzano Il nuovo ospedale Consegnati terreni Oggi in città Arriva l'assessore regionale Alla sanità Silvio Paolucci Che riceverà Dall'amministrazione Comunale Tutte le indicazioni La commissione Durante la nottata Ha prontato Le carte Necessarie Che erano state Preparate Da Nicola Pisegna Orlando A intro d'acqua E riallacciato Il gas E riaprono Le scuole Emergenza Contro il tempo È una corsa Del comune Di Sulmona Per garantire Il rispetto Dell'accordo Con la curia E poi A Chieti L'università Teneo e territorio Guardate i risultati Non le targhe Il rettore Carmine Edilio Risponde alle accuse Per le nomine Del nuovo CDA Dell'adannunzio In cui Non sono presenti I nomi Di Chieti Vivo a Pescara Ma lavoro qui Dal 72 Non credo di aver fatto Torti alla realtà Locale Ma non si discute L'autonomia Decisionale Queste le dichiarazioni E poi Le indagini Il bandito muto Che conosce la vittima In merito A quello che è stato La rapina Avvenuta Nell'anziana Che è stata rapinata In casa A filetto E' una delle ipotesi Che uno dei banditi Conoscesse l'anziana donna Perché non ha parlato E' rimasto muto Tutto il tempo Mentre l'altro malvivente Riusciva invece a parlare Forse per non farsi riconoscere E poi per il masterplan Errissa Sui progetti scippati Questo è uno scontro politico Che come era prevedibile Si accende Sulle opere del masterplan Da realizzare In città Cioè La funivia di collegamento Tra l'ospedale E il terminal bus Di via San E di via Gran Sasso Polemiche inevitabili Dopo che l'altro ieri Dinanzi al sottosegretario La presidenza del consiglio Claudio De Vincenti In visita in città Proprio per il masterplan Il PD Teatino Ha rivendicato le due opere Alla propria azione Datandole 2008 Quando il centrosinistra Era il governo Con Francesco Ricci Sindaco E Luigi Febo Assessore ai lavori pubblici Dal centrosinistra Solo falsità e presunzione E la replica Le opere del masterplan Sono state progettate Grazie alla capacità Del centrodestra Queste le dichiarazioni Dell'assessore all'urbanistica Mario Colantonio Avvasto la variante Anas Scontro tra i sindaci Il progetto Per la statale 16 Divide un intero Comprensorio E i dubbi Di vasto Sul viadotto Mentre per San Salve Tutto ok Contrari 28 comuni Dell'entroterra Che chiedono modifiche Per estendere il tracciato Su un territorio più ampio Confronto in regione Su un tratto degli 8 chilometri Per collegare trave Alla stazione ferroviaria A Lanciano Il bike sharing Il trionfo dell'inciviltà Danneggiate le nuove bici elettriche Vanificato in città L'investimento di 200 mila euro Per la mobilità sostenibile A Teramo Ritorna la paura E' stato evacuato Un palazzo in centro In via Oberdan Criticità in uno stabile Di tre piani Ma gli alloggi risultano agibili Continuano le ordinanze di sgombero Anche ieri coinvolte Famiglie e negozianti E poi ancora sul post-sisma Gli sfollati Non pagheranno le medicine La ricerca è un planetario All'osservatorio Con i contributi del Masterplan La richiesta del direttore Buonanno Al sindaco Ma la priorità resta La funicolare di collegamento Con l'università Nuovo ospedale L'area scelta 5 anni fa Giulia Nova spunta la delibera Il comune Aveva concordato con l'ASL L'utilizzo di un appezzamento Di terreno agricolo In via Cupa La giunta approvò anche Il cambio di destinazione d'uso Ma l'operazione rimase al palo Oggi ultima opportunità La giunta regionale Discute l'atto in cui Potrebbe essere salvato Il progetto Del presidio Giuliese Andiamo avanti E passiamo alle pagine Invece del quotidiano La città L'Abruzzo E la camera di commercio Unica Va all'Aquila Approvata la delibera Per la fusione Restano due sedi Ma quella legale Sarà nel capoluogo Regionale E poi le reazioni Alfonso Marcozzi Stiamo regalando La nostra ricchezza Di taglio basso La promozione turistica Il brand della regione Viaggerà insieme Alle compagnie aere Il pagamento del servizio Avverrà in base Ai contatti raggiunti Dai vettori Nell'arco di un anno Danni del terremoto Poli scolastici Primo vertice di maggioranza Tra oggi e domani La riunione allargata A tecnici e partner Su come riorganizzare Sedi ed edifici Inagibili Si lavora Alle linee telefoniche Dell'ex Banca d'Italia Ripristino di internet Trasloco previsto All'inizio Della prossima Settimana E poi La riorganizzazione Dei plessi Caos traffico Alla Molinaria Protesta La Zippilli Arriva il pedibus Problemi In piazza Aldomoro In via Nicola Dati La polizia municipale Non basta A risolvere Gli intoppi Al Rosa di Nereto I primi fondi Post sisma Approvato il finanziamento Da 400 mila euro Per il miglioramento Il primo intervento Arriverà Intervento Dopo il 2009 I sette corpi Fabbricati Dell'istituto tecnico Avranno un indice Di vulnerabilità Compreso tra 0,68 E 0,91 Nella lista Delle priorità In attesa Del via libera Ci sono L'ITC Comi Il piano di Nereto Il liceo delfico E il liceo Einstein E poi Di spalla Isola del Gran Sasso Zona rossa Boomerang Per la vita Del centro storico I sindaci del Vomano chiedono aiuto Per il sisma Serve un'area intermedia Per i territori Esclusi dal cratere Ma che hanno subito Lo stesso Molti danni In Valle Castellana Situazione sempre più difficile Pietra alta A Teramo A Teramo L'asla Ha licenziato L'urologo Robi Mark Il provvedimento È scattato Un anno Prima della pensione Dopo la condanna Per truffa Aggravata E falso L'urologo Ed ex assessore Del comune di Teramo Sei anni fa È stato coinvolto In uno scandalo Sulle presenze E l'attività Intramoenia Andiamo avanti Col masterplan E con l'Urania Sogna Il planetario La proposta Del direttore Buonanno In caso di stop Al progetto Della funicolare Tra il centro città E l'Ateneo A Teramo Ancora Soldi spariti È stato chiesto Il processo Per l'impiegato Il cinquantenne Teramano Luciano Antonini Accusato di peculato Per 86 mila euro Mancanti Alla CIA E poi la politica Il referendum La sfida di sì E noi Avvocati Di Aiga Invitano Quattro prof Per la discussione Dei temi A favore E contro La riforma Costituzionale La provincia San Felice Si ribella L'antenna in piazza Torricella sicura Troppo vicina A chiesa Parco giochi Abitazioni I cittadini Minanciano Battaglia E l'impianto Della telecom È arrivato nel borgo Giovedì scorso Senza che gli abitanti Ne sapessero nulla Inutili Le spiegazioni del sindaco Arrivate solo dopo L'installazione I cittadini chiedono Di portare l'antenna Fuori dal paese Lontano Dalla loro piazza Torniamo a parlare Dell'omicidio Di Tortoreto Il cellulare Di Silvestre Era a casa Gli inquirenti Sentono parenti Amici Per capire Perché si è uscito senza I dubbi degli inquirenti Sono il telefono È stato lasciato Consapevolmente O per una dimenticanza La domanda è Perché Demetrio Di Silvestre È uscito di casa Senza portare con sé Il cellulare Una dimenticanza Oppure una scelta consapevole Ancora Su questo si stanno Interrogando gli inquirenti Che portano avanti Nel massimo riservo Le indagini relative All'omicidio Dell'artigiano 56enne di Tortoreto I carabinieri Di Ascoli Piceno Hanno acquisito I tabulati telefonici Del piastrellista Sparito nel nulla Martedì 15 novembre I cui resti Carbonizzati Sono stati ritrovati Il giorno dopo A Morignano Sul monte Ascensione Di Ascoli Ancora l'ospedale Ancora l'ospedale Finalmente parla il sindaco Giuliano In anticipo Per le elezioni Andiamo avanti E adesso apriamo La pagina dello sport Con il Teramo Che è a caccia Dei quarti di Coppa Oggi pomeriggio Albonolis Sfida contro il Siena Nofri ha dichiarato Onoreremo la competizione In campo Fratangelo Carraro dall'inizio Il centrocampista Biancorosso Sarà schierato Nel ruolo di playmaker Out Bulevardi Per sabato Bulevardi salterà La reggiana Domani Jefferson Torna a lavorare Con i compagni Di squadra E sarà disponibile Sabato Nulla da fare Per il centrocampista Uscito Anzitempo Contro L'Ancona E allora come detto Oggi impegno Per il Teramo E ascoltiamo Le dichiarazioni Del tecnico Nofri E' una competizione Che dobbiamo onorare Al meglio Perché la società Ci tiene particolarmente Ma anche i giocatori Il sottoscritto Chiaro che In eventuale vettura Ci proietterebbe Ai quarti di finale Eventualmente Nel mese di febbraio Dunque Dobbiamo cercare Di onorare Il più possibile Cercando di passare Il turno Questa manifestazione Che permette anche A chi ha meno spazio Durante il campionato Di farsi vedere Di mettere in difficoltà Le scelte Futuri Beh Carrara Sicuramente Sarà un giocatore Della partita Poi Jefferson No Perché ancora Andiamo caviti Su quello che è Il suo recupero Che sta Comunque sia Sta terminando Quindi Da giovedì Si rimette Quel gruppo Dunque È disponibile Per Reggio Emilia Però Per la partita Di Coppa Italia Lo teniamo A riposo Eh ma La Coppa Italia Ripeto Le partite Vanno poi Vanno comunque sia Giocate Voglio dire Manganelli Nella Coppa Italia Fece una buona partita Poi Si è fatto Trova pronto E quindi È stato inserito Nel contesto Della gara Con l'Ancona Ma questo è un esempio Ma potrebbero succedere Anche altre situazioni È chiaro che Non è che possiamo Ripeto Stravolgere L'organico Che ci abbiamo Però Quelle situazioni Alcune situazioni Possono essere Sicuramente sovvertite Poi dipende Sempre da quello Che mi fai vedere In campo Noi dobbiamo però Pensare a quello Che è il bene Del termo E della scuola Del termo Quindi i giocatori Questo lo sanno E per uscire Da questa situazione Il prima possibile Dobbiamo agire Tutti allo stesso modo Dobbiamo avere Grande E dobbiamo Vivere la competizione In maniera leale Altrimenti Le situazioni Si diventano Sempre più difficili Noi in questo momento Ripeto Dobbiamo dare continuità A quello che è stata La vittoria Poi In Coppa Italia Anche se affrontiamo Una squadra Comunque sia competitiva Come il Siena Che credo che abbia Un organico importante Adesso vediamo anche Quello che saranno Le aspettative del Siena Ma la Coppa Italia Più vai avanti Più sicuramente Ti dà stimoli No Poi Penseremo alla parte Di Reggio Emilia Dove andiamo ad affrontare Una squadra Sicuramente con un grande Con un grande organico E che in casa Ha fatto Se a vittore un pareggio Quindi sarà una partita difficile Ma non partiamo sicuramente Battuti E cercheremo di Di dare Grande energia E di dare prosegua Risultato di sabato Con l'Ancona Ancora sport Ora sulle pagine Della messaggera Iniziamo dalla Serie A Con il Pescara Zuparic Tutto per la salvezza Il croato titolare Per la prima volta Contro la Juventus Dice Non giocavo da tanto Ma contro avversari Forti Mi esalto Fermare l'attacco Della Roma Chiederò consiglio A Ciosic Pronto a morire Sul campo Per conquistare La permanenza In Serie A Non so niente Del futuro Se ci sono richieste Deciderà il club La mia scelta È quella Di restare qui E poi la Tegola Campagnaro Fermo Per almeno 15 giorni Dovrà stare fuori Almeno 12 giorni Dopo l'infortunio Rimediato Contro la Juventus Gli esami ai quali Si è sottoposto Il calciatore Infatti Hanno evidenziato Una lesione Tra il primo E il secondo grado Del soleo Di spalle Sebastiani Il mercato Dovrà capire Cosa serve Il momento è difficile È inutile nasconderlo 5 Sconfitte di file La concreta Possibilità Di allungare La striscia Negativa Dovendo far visita Alla Roma E ieri Il Pescara Una delegazione Di giocatori E anche la presidenza Ha fatto visita A uno dei loro Sponsori In questa occasione Abbiamo ascoltato Il presidente Sebastiani Vediamo Presidente Sebastiani Dopo la sconfitta Con la Juventus Si pensa già Alla gara di Roma Calendario Che non regala Partite Sulla carta Abbordabili Al Pescara Resta però La fiducia Della società In questa squadra In questo tecnico Assolutamente sì Ci mancherebbe Non solo resta La fiducia Resta la consapevolezza Che qui non ci sono Partite facili Non è che la Roma È difficile E poi il Cagliari È una passeggiata Sono tutte partite Difficili Perché la Serie A È questa E noi Se ci vogliamo stare Vogliamo provare A rimanerci Dobbiamo Metterci qualcosina In più Qualcosina in più In termini di impegno In termini di cattiveria Di agonistica Perché Probabilmente È quello che Ci è mancato Fino adesso Abbiamo giocato Delle bellissime partite Abbiamo raccolto Molto meno Di quello che Meritavamo Sul campo A livello di complimenti Penso che siamo Una prima squadra Nel campionato A livello di punti Non lo siamo Dopo la partita Con la Roma Quattro partite Però da non sbagliare Con due scontri diretti In trasferta Crotone e Palermo Sì sì Diciamo che Sulla carta Dovrebbe cominciare Il campionato del Pescara Abbiamo sbagliato qualcosa Negli incontri precedenti E abbiamo raccolto Qualche punto Magari Dove altri Non l'hanno fatto Non credo che Qualcuno Della società O anche tra il mister E i giocatori Si fosse illuso Di poter fare Un campionato diverso Noi sapevamo Qual era la nostra strada Quest'anno Che era una strada Di sofferenza Di grande sofferenza Ma di grande sacrificio Che devono fare i ragazzi Devono fare Deve fare la società Deve fare il mister Devono fare tutti quelli Che hanno a cuore Le sorti del Pescara Ultima battuta Bilancio tutto ok Ieri c'è stata l'approvazione? Ma sì A parte c'è stata l'approvazione Ma io credo che Se una società lavora Per il bene Della società In primis E soprattutto Una società Che negli ultimi tre anni Ha tolto Dall'imbarazzo Tutti i soci Vecchi e nuovi Perché tutti quanti Noi avevamo Delle firme Presso le banche Oggi non c'è più Una firma Presso le banche Penso che qualcuno Mi debba dire grazie Non debba venire Nemmeno A chiedere Che cosa abbiamo fatto E allora con lo spot Noi concludiamo La nostra rassegna stampa Prima di salutarci Ricordiamo Che l'appuntamento Con l'informazione Del TG6 Arriva nella prima edizione Alle 14 E invece La rassegna stampa Torna domani mattina Puntuale alle 7 Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti